Non è meglio stargli alla larga ed evitare un incontro. All'attacco! Preparate l'impasto! Preparate l'impasto! Preparate l'impasto! All'elancio! Al cieli, non scappare! Occhio! Quattro del vincere rosso! Danciate! Si preparate! Al cieli, non scappare! Se posso! Le lance! Forza! Corriente! All'attacco Alcoccio! Seguitemi, facciamoglielo avvagare! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!